Ciao a tutti, eccomi qua oggi con il mio primo video haul dedicato ai saldi. Come sapete sabato sono iniziati i saldi, mi sono concessa un giretto, sono rimasta diciamo nei dintorni di casa mia perché il primo giorno di saldi a zerdarsi ad andare a outlet e centri commerciali troppo grandi è veramente il delirio, però devo dire ho trovato parecchie cosine e la maggior parte non in saldo, però erano cosine che cercavo da un po' quindi come al solito soprattutto cose di make up e da vestire di una sola cosa ho trovato per ora. Iniziamo subito, il primo giro è stata la coin dove strano ovvero ho trovato lo stand essence abbastanza fornito e ho trovato la nuova collezione uscita proprio adesso i primi di luglio ovvero la Wave Goddess che diciamo mi ero già improntata un carrello su Cosmetic for Less perché non lo sapesse è un sito tedesco che vende appunto anche la essence e già una volta ho fatto un ordine da loro perché comunque trovare uno stand dove non ci siano prodotti aperti, dove ci siano prodotti è abbastanza difficile quindi insomma anziché buttare soldi in benzina a girare i vari OVS, scarpe scarpe e coin faccio l'ordine diciamo i 4,90 euro di spendo in spedizioni. Però ero molto ditubbante su alcuni prodotti perché ero indecisa se prenderli o meno quindi diciamo mi sarebbe interessato a farmi qualche swatch. Allora nella nuova collezione avviene ho preso un solo prodotto che è questo è un ombretto in crema c'era questo colore diciamo che è un color pesca si chiama lo 04 life is a better when you surf oppure c'era un bellissimo argento un celestino e un blu io ho optato per questo colore perché di celesti e blu sono stra piena l'argento era un po' troppo glitterato cioè era molto carino tipo per un look da sera invece questo è veramente un bellissimo colore che ho già provato intanto ve lo faccio vedere ed è questo qui è molto molto glitterato e luminoso però la cosa bella è allora l'ho provato e lo vedete anche nel video dove vi parlo dei mineral des di neve lo indosso non so quanto possa notarsi comunque luminosissimo bellissimo color pesca e la cosa che mi è davvero stupito è che non va nelle pieghe assolutamente è glitterato sì ma i glitter rimangono lì io odio quegli ombretti che sono glitterati li metti sull'occhio dopo due minuti trovi glitter per tutta la faccia invece no questo è davvero davvero carino e dovrebbe essere anche waterproof se non sbaglio ed è carinissimo e ho messo questo l'altro giorno con un marrone nella piega finito c'era proprio un trucco veloce ma rimaneva luminoso e carino 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 secondo me questi qua vale la pena andare a dare un'occhiata allo stand nella stessa collezione avevo visto ci sono i lip balm che però diciamo al momento non mi interessavano e c'era invece un prodotto che mi interessava molto che era l'era nerdo doppio e c'era color ghiaccio e un bellissimo blu non so se c'erano altri altri colori ma il blu mi piaceva tantissimo solo che su instagram parlando con una ragazza per perché non mi seguisse su instagram mi lascio il nick sotto e mi ha detto che cioè mi ha fatto proprio vedere una foto dopo averlo subocciato ha provato a struccarlo con struccante e bifarsi colio di cocco e rimaneva la traccia proprio come come fosse un pennarello diciamo quindi questa cosa mi ha un po' bloccata dal prendo perché ho pensato fa un gesto del genere sugli occhi non penso sia una cosa molto carina insomma quindi ecco quello non l'ho preso sempre allo stesso stand essence ho preso questa l'avete vista anche in i miei tutorial la long lasting eye pencil nella colorazione 01 black fever sarà la quarta quinta questa che compro non ho finita una già ce n'ho un'altra ma una di scorta ci deve essere sempre è una semplicissima matita nera però la cosa bella è che è di un nero davvero intenso poi io sarà che adoro le matite con la mina così automatica che quindi anche se le devi portare in giro non devi stare a pensare chissà se devo temperarlo o meno è comodissima mi dura tutto tutto il giorno solo adesso che ho l'allergia mi da un po' fastidio perché mi brucia però durante tipo durante l'inverno la uso tipo ogni giorno mi ero segnato i prezzi scusate questo ombretto in crema della essence viene 2,89 euro mentre la matita 1,89 euro sempre sempre allo stesso stand ho trovato una palettina che cercavo da tanto ma non trovavo sono queste palettine essence che tra l'altro hanno anche un buon inci e ho preso l'about nude mi piaceva moltissimo perché appunto è tutta sui colori del nude c'è un bello brillante un rosa antico un bello un po' più scuro un altro rosa un marrone un brugogna viola insomma però sono rimasta no delusa però un po' un po' male perché tempo fa ho acquistato sempre della stessa linea l'all about paradise che ha questi colori bellissimi e sono pigmentatissimi per farvi un esempio prendo questo verde il blu cioè vedete sono davvero davvero pigmentati tutti shimmer luminosissimi tipo questo fucsia è stupendo proprio appoggiate il dito quindi sono davvero pigmentati e pensavo fosse uguale questa qui invece devo dire che l'ho provata ieri e sono molto meno pigmentati è secondo me comunque una buona palettina anche insomma perché permette di fare parecchi look però tipo questo è il primo colore che a vederlo così sembra anche pigmentato ma una volta steso sulla palpebra perde questo è rosa non so i colori scuri sono più pigmentati quelli chiari un pochino meno però comunque secondo me è una buona palettina anche perché viene 4,49 euro è un buon inch è carina secondo me dai la sfrutterò comunque molto insomma poi sempre allo stesso stand ho preso il setto della linea long lasting questo ha lo 09 wear berries che ho provato ieri e mi piace tantissimo non pensavo fosse un colore che potesse piacermi invece è questo rosa un pochino più tendente appunto al viola ma sulle labbra devo dire non rimane con una sola passata almeno molto violace ma rimane molto naturale e carino cioè mi piace veramente veramente tanto e questo l'ho pagato 2,89 euro questi sono veramente hanno un ottimo ninci sono dei dei buoni rossetti perché a me tangono tantissimo e comunque per il prezzo che hanno ne vale la pena cerco da tanto il 12 non mi ricordo il nome ma dovrebbe essere tipo un fucsia particolare cioè l'ho letto in parecchi blog e video ma non lo trovo mai è sempre terminato quando arriva lo stand poi da lì sono andata da H&M dove ho preso allora c'era lo stand dei pennelli a un euro è tipo là corsa proprio peccato che ce n'erano pochini con tutto che era il primo giorno e ho preso solamente due pennelli uno è questo lo ve lo faccio vedere da fuori insomma smoky eye brush ed è un pennello doppio da un lato ha la puntina da eyeliner e dall'altra alla punta da sfumatura io ho sentito tanti vari discordanti sui pennelli di H&M io ne ho uno però non di questi qui di quelli con il manico bianco sempre così un al lato eyeliner e un al lato sfumatura ed è rientrato tra i miei top dei pennelli perché è morbidissimo non perde una setola è davvero fantastico e anche questo ancora non l'ho provato però al tatto è davvero morbido morbido è bello pienotto e veniva 2,95 euro e l'ho pagata appunto 1 euro l'altro pennello che ho preso poi ce n'era anche uno doppio da viso però insomma altri pennelli da viso non mi servivano e ho preso questo qui che diciamo è il più piccolino da precisione è meno pieno dell'altro è un pochino più è morbidissimo anche questo insomma anche questo 2,95 euro e l'ho pagato 1 euro cioè per 1 euro voglio provare visto che comunque i pareri sono discordanti ho letto gente diceva sono durissimi ora io così a sentirlo dura assolutamente no tocca vedere certo una volta lavato magari oggi proverò anche a lavarli e vedrò da H&M ho anche preso un top ci sono parecchie cose carine da H&M bisogna solo un attimo perderci tempo e cercarle secondo me e ho preso vediamo se ce la faccio a farvi vedere questo top semplicissimo a canottierina con questo motivo geometrico sopra nero e qui con tutte queste righe di un cotone leggerissimo quindi fresco per questa stagione dietro ha la parte così sulla schiena carino veniva 9,95 euro l'ho pagato 5 euro ce n'erano davvero davvero tanti di questi top scontati a 5 euro quindi se vi piacciono i top così semplici c'era un altro che aveva un motivo tutto floreale un altro tutto colorato quindi per 5 euro secondo me vale la pena anche perché io con i capi di abbigamento di H&M mi trovo davvero bene e questo è stato H&M poi sono andata da Limoni e ho preso ve lo faccio vedere io odoro i prodotti capelli di Agoda La Palma e ho preso il fluido riccio scolpito che ho già provato in dei campioncini e mi ero innamorata come vi ho già detto in altri video io ho i capelli ricci tendenti al crespo e trovare una spuma che mi faccia ricci decenti come dico io è tipo un'impresa per me o perlomeno la trovo ma tipo dopo poche applicazioni sembra come se il capello si abituasse e quindi non fa più effetto boh non so come spiegarvi invece questo avevo parecchi campioncini l'ho provato e mi piace tantissimo non è proprio economico perché viene 13,20 euro si trova la coin però non aveva questo delizio come lo sono andata io e da limoni profumerie però posso dirvi che ho anche quello per i lisci che si chiama liscio spaghetto l'ho preso intorno a dicembre lo uso quasi tutte le volte che me li faccio lisci tipo oggi l'ho usato a parte qua a stonda che è uscito fuori e li asciugo vengono abbastanza lisci una passata al volo di piastra e sono morbidissimi mi acciono tantissimo e tra l'altro cioè basta davvero poco prodotto quindi si sono 13,20 euro ma si ammortizzano nel tempo perché dura davvero davvero tanto e quindi ho preso questo e in cassa mi hanno dato due omaggini strano ovvero di profumo c'è l'ador poi mentre io ero in un negozio il pazzo del mio ragazzo è rientrato da limoni e mi ha fatto un regalo che io ti voglio tutto il cuoricino ed è questo cofanetto perché ha visto che mi c'era un attimo soffermata a guardarlo questo cofanetto Lancome a cui interno è la confezione lo vedete un po' sorricciato perché ieri l'ho provato ovviamente è la confezione in modo più carino all'interno c'è un mini correttore da 5ml una matita nera più piccolina ma nemmeno tanto insomma e poi c'è lui in mascara che è bellissimo già il packaging io l'adoro ed è Hypnose Dollice l'ho provato ieri ed è fantastico faccio vedere lo scovolino come vedete ha le sedole molto non so come spiegarvi cioè nel senso che quando andate a fare così divide perfettamente le ciglia le voluminizza è davvero davvero bello il prezzo lo so perché insomma l'avevo adocchiato da dentro già la profumeria ed è un ottimo prezzo perché se considerate che solo il mascara l'ho visto ieri alla gardenia viene 32 euro questo cofanettino con appunto correttore matita e mascara era in offerta 22 euro e 90 quindi effettivamente conveniente poi siamo andati da scarpe scarpe ma per vedere la sua standessence dove ho trovato l'altra collezione che mi interessava che è la beach cruises dove ho preso questo che puntavo da tantissimo ma non trovavo ed è un mascara top coat waterproof ovvero passato sopra il proprio mascara rende il mascara sotto waterproof e mi sembrava una cosa comoda visto che non è nemmeno un mascara waterproof e quindi questo ancora lo devo provare sono curiosa è molto gelatinoso ed è uno scolino abbastanza grande insomma proverò e vi dirò se realmente lo rende waterproof che altro ho preso da Casanova voglio condividere con voi questi acquisti ho preso un comodino mi serviva e diciamo che in giro non volevo spendere tanto ovviamente non trovavo niente che mi piacesse più che altro anche a un prezzo abbordabile e vi lascio la foto qui da qualche parte non so se si può definire come stile shabby chic non so perché non me ne intendo molto di queste cose ma è carinissimo e tra l'altro veniva la bellezza di 53 euro e l'ho pagato 19,90 quindi super soddisfatta e sempre da Casanova ho fatto un giro perché adoro questi negozi che vendono cose di casa e ho preso una cosa che me ne ero innamorata con il mio ragazzo andando a mangiare fuori da Fantasy di Napoli perché fosse di Roma non so se lo conosce che ha questi coltelli che sono fantastici cioè noi appena abbiamo visto no li vogliamo e li avevamo trovati da qualche parte non ricordo dove ma veniva circa 5 euro a coltello insomma non è proprio il caso invece li abbiamo trovati 1,60 euro e quindi li abbiamo presi appunto 4 e sono carinissimi tra l'altro tagliano tantissimo perché sono allucinanti anche per la carne e carini carini ultimi due acquisti l'ho fatti ieri e alla gardenia e sono un altro stand essence e ho trovato una linea che ormai davo per cioè ormai non ci contavo proprio più ed è la cookies and cream c'erano gli ombretti che erano davvero davvero carini però ho detto no e c'erano loro le perle illuminanti che cercavo da tantissimo anche il sito che vi ho detto prima Cosmetic for Less non le aveva più e non le aveva più riassortite e mi dispiaceva tanto perché le volevo provare sono molto simili ovviamente il prezzo no a quelli di Guerlain che se non sbaglio vengono intorno ai 40 euro a parte mi piace tantissimo il packaging tutto così rota appena si apre c'è un piumino e ha un odore di biscotto di dolce insomma buonissimo però non stucchevole e ci passo un dito sopra per farvi vedere lascia delle perle scienze fantastiche davvero davvero fantastiche non vedo l'ora di provarlo perché non l'ho ancora provato ma bello e questo l'ho pagato 4,19 euro contentissima e tra l'altro chi interessasse la cardena c'era in offerta anche dei pennelli che però non ho preso perché non erano pennelli diciamo che mi interessavano perché c'erano eyeliner che ne ho tipo troppi se c'era qualcosa da sfumatura l'avrei preso ma non non c'era e infine tornando a casa dal cinesino ho comprato il pennello diciamo da illuminante 1,90 euro sono rimasta un po' male perché dalla scatola sembrava carino insomma e poi però vedendo è abbastanza cioè morbido però è poverino nel senso non è fit lo pensavo fosse un po' più pieno ecco 1,90 euro lo provo niente posso dirvi che sono stata da Kiko che ha pochissime offerte e su cose erano in offerta le matite queste skinny fit non mi ricordo il prezzo onestamente ho visto in offerta che questi io li ho presi a Natale in offerta quindi insomma gli smokey look e poi c'erano l'unica cosa un pochino più interessante delle palettine se non sbaglio a 6 colori a 5 euro e un pennello da BB cream ho visto in offerta e poi togli gli smaltini a 1 euro però nulla è eccezionale ecco questo è tutto e niente fatemi sapere voi al prossimo video ciao ciao